oh hey stavo facendo due conti ed è venuto fuori che ho un sacco di liquidità in realtà non è che me ne sono accorto è chiaramente voluta la cosa la mia è una scelta ma in questo video voglio spiegarvi come mai e farvi anche vedere il mio portafoglio la mia allocazione in questo momento e appunto cercare di motivarvela direi di non perdere altro tempo quindi sigla benvenuti a tutti in questo nuovo video io sono pietro e quando faccio questo tipo di video mi faccio sempre un sacco di problemi un sacco di scrupoli quindi oggi si vi mostro il mio portafoglio ma aggregando le posizioni quindi facendovi vedere semplicemente l'allocazione in varie asset class in varie categorie poi tanto chi segue il canale in modo un po più assiduo sa tendenzialmente cosa compro quindi vabbè altra piccola cosa potrei entrare più nel dettaglio e farvi vedere ad esempio quanto ho in etf quanto ho in azioni ma se gli etf poi sono azionari come sono per la gran parte del mio portafoglio allora ha molto più senso raccontarvi che parte ho in azioni siano queste sotto forma di azioni o etf partiamo quindi con il portafoglio allora iniziamo dalle cose più piccoline ossia peer to peer lending in questo momento ho il 6 per cento in peer to peer lending che sembra poco ma per chi ha seguito le varie vicende sul canale sa che avevo ridotto o addirittura per un periodo rimosso completamente l'esposizione dal peer to peer lending quindi sto riprendendo gradualmente e comunque non voglio che questa fetta superi mai il 10 per cento perché la ritengo comunque una set class rischiosa ne abbiamo già parlato molte volte sul canale siccome nei mesi prossimi prevedo di far crescere questa quota potrebbe anche raddoppiare allora arriviamo circa al 10 per cento che appunto è il mio massimo arriviamo all'oro e si mi sto posizionando sull'oro al momento non ne ho tantissimo solo il 4 per cento e per ora sono soddisfatto con questa quota stiamo a vedere come si evolverà in futuro la situazione ma di nuovo non sono entrato ancora in modo pesante in modo massiccio ma sto iniziando rate quindi parliamo di immobiliare e preferisco anche se gli effetti formalmente si tratta di azioni considerarle una set class a parte come tra l'altro viene fatto nella gran parte della letteratura su questi argomenti in rate io al momento ho il 6 per cento del portafoglio quindi di nuovo una fetta piccolina sui rate probabilmente uscirà un video più avanti dove vi parlo dei rate in questo singolo momento storico quindi iscrivetevi se non potete già iscritti ovviamente spoiler potrebbero esserci delle opportunità interessanti nell'immobiliare ma ne parleremo più avanti cripto oh finalmente arriviamo a un asset class tanto discussa tanto odiata e amata personalmente non mi reputo né un fanboy perché ho una quota molto piccola né un odiatore altrimenti non ne avrei neanche un pochino in questo momento ho il 6 per cento in criptovalute tendenzialmente sono tutti bitcoin in passato ho detto di volere un massimo di 5 per cento in criptovalute quindi come mai adesso ho un 6 per cento molto semplice bitcoin è esplosa rialza tipo raddoppiato da quando iniziato a fare i primi ingressi quindi la quota è passata dal 3 al 6 siccome però prevedo che il portafoglio tra poco inizierà a crescere molto questa quota in termini percentuale si ridurrà quindi potrei anche pensare di aumentare però non in questo preciso momento arriviamo alle componenti importanti e azioni come potevate facilmente immaginare le azioni sono la seconda componente più grande del mio portafoglio con il 38 per cento quindi più di un terzo per commentare però questo discorso devo introdurre la mia prima componente del portafoglio che come avrete probabilmente intuito dal titolo è la liquidità in questo momento la liquidità è il 40 per cento del mio portafoglio quindi una quota davvero importante rispondiamo alla domanda delle domande ma perché ho così tanta liquidità il primo motivo è legato alla seconda componente ossia l'azionario o meglio l'andamento dell'azionario ad oggi ritengo che investire nell'azionario possa offrire dei rendimenti non eccellenti quindi sì magari superiori rispetto all'obbligazionario che in questo momento è estremamente poco redditizio ma in termini assoluti nulla di che questo perché sui rialzi attuali ha influito tantissimo il ribasso dei tassi di interesse deprimendo così i tassi le obbligazioni diventano meno interessanti le azioni quindi diventano un po l'unica alternativa valida alcuni addirittura parlano di azioni da dividendo come le nuove obbligazioni che a mio avviso è un po sbagliato ovviamente nessuno sa come andranno le cose e comunque io continuerò a espormi gradualmente nell'azionario ma in questo momento il fatto che le azioni siano il meno peggio non mi fa stare così tanto tranquillo io infatti voglio comprare qualcosa quando mi piace quando ritengo che ci siano delle opportunità non perché il resto fa schifo quindi attenzione ovviamente potrei sbagliarmi in tutto ciò e qui ci sta la diversificazione infatti sono pesantemente comunque esposto all'azionario e c'è anche il pack in tutto ciò non dimentichiamoci che continua a portare avanti c'è dell'oro in portafoglio che quindi se i consumi dovessero ripartire con la massa monetaria adesso in circolo probabilmente ci sarebbe inflazione quindi la parte di oro e probabilmente anche quella in bitcoin andrebbero a beneficiarne questo per quanto riguarda il generale quindi non sono così tranquillo a mettere in generale sui mercati azionari tutta questa liquidità oggi sul mercato ma entriamo anche nel particolare nella esperienza che vivo tutti i giorni io come sapete ogni giorno indipendentemente da dove sono i mercati cerco opportunità quindi aziende o azioni per capirci che possano fruttare dei rendimenti che magari sono sottovalutate dal mercato ecco in questo periodo sto facendo molta più fatica del solito se fino a qualche mese fa magari facendo le mie analisi avevo 50 aziende da valutare oggi ce ne sono tipo 5 quindi è molto più complesso e questa cosa mi fa capire che le prospettive almeno per le mie analisi sono meno rose oggi ho come la sensazione che quando si parla di aziende di azioni ogni volta che c'è il minimo ribasso il 2 per cento bisogna entrare su visa su mastercard perché oddio sono le aziende del futuro quindi si approfitta di ogni minimo ribasso per posizionarsi al rialzo e questa cosa mi spaventa un po in tutto ciò vedo molta fretta quasi come se i livelli di oggi non ci saranno mai più in futuro o addirittura non si ipotizza nemmeno che le azioni possano calare fortunatamente questo atteggiamento è sì generalizzato ma ci sono anche settori che magari non se la passano benissimo che periodicamente passano di moda si ricordiamoci che il fattore moda influisce tantissimo sui mercati fino all'altro giorno petrolio e banche facevano schifo a tutti ed è stato il momento in cui ho comprato oggi invece stanno tornando un po sulla cresta dei rialzi quindi ecco capite che è tutto ciclico ci sono dei cicli di mercato quindi sto solo aspettando che alcuni settori interessanti ripassino nuovamente di moda accade sempre così altro punto specifico soggettivo quindi mio di questa liquidità l'anno prossimo quindi a fine di quest'anno dovrò aprire srl che è una forma societaria diversa da quella in cui sono adesso adesso opero come libero professionista mettiamola così quindi sono come pietro l'anno prossimo sarò come abc srl per fare questo ci sono da sostenere dei costi dal commercialista al notaio a il fatto che dovrò probabilmente spendere in attrezzature su questo non entro nel dettaglio vedrete molto presto probabilmente tra un mesetto quindi comunque prevedo tutta una serie di costi anche per dei progetti imprenditoriali che voglio avviare e sì ho un'idea di quanto potrei andare a spendere ho messo da parte quella cifra però non sai mai come fanno le cose se prevedo di spendere ad esempio 10.000 euro io sì posso metterne da parte 10 magari mi va bene ne spendo 7 ne spendo 6 ma potrebbe anche sfuggirmi di mano la cosa perché sono spese che non ho mai fatto in vita mia e quindi potrei scoprire che ce ne vogliono 20 quando quindi preventiviamo una spesa che però non abbiamo mai fatto la probabilità di sbagliarsi è molto alta perché appunto è qualcosa che non abbiamo mai fronteggiato prima e quindi una parte di questa liquidità mi fa un po da cuscinetto nel caso le spese dovessero essere più grandi di quello che sono ora giusto un paio di chiarimenti numero uno il fatto che io sia così tanto cash così tanto liquido non significa in alcun modo che io sia ribassista sui mercati se fosse così infatti sarei ribassista sarei short non liquido dire sono ribassista e poi essere liquido non ha nessun tipo di senso se sei ribassista ti posizioni al ribasso punto se no vuol dire che sei flat che sei liquido ed è esattamente quello che sono io inoltre ricordo che io faccio degli ingressi per il lungo periodo raramente compro aziende le rivendo dopo sei mesi può accadere ma tendenzialmente quando compro un'azienda prevedo di tenerla per anni e quindi se anche dovessi perdermi il 5 per cento che fanno i mercati nei prossimi sei mesi e in tutto ciò magari alcune aziende scendono quindi mi sono perso oggettivamente delle opportunità non mi interessa perché il mio orizzonte temporale è molto più lungo e prevedo di fare molto più di questo misero 5 per cento misero ripeto in un'ottica di dieci anni se quindi queste opportunità di mercato dovessero arrivare tra due tre quattro mesi a mio avviso non fa alcuna differenza proprio perché ho sempre in mente il mio orizzonte temporale che è decennale ventennale quindi non ho fretta inoltre è un dettaglio ma secondo me neanche così tanto se il dollaro continua a indebolirsi di sto passo comprare tra un po sarà molto più conveniente che comprare oggi proprio perché il cambio euro dollaro sarà a nostro favore gli stati uniti stanno gonfiando tantissimo i mercati attraverso l'immissione di liquidità che spesso finisce appunto direttamente nei mercati azionari e a loro magari non cambia molto perché spendono dollari investono dollari hanno a che fare con la loro valuta ma noi che poi dobbiamo tornare sempre in euro cambia eccome per capirci i mercati statunitensi l'S&P 500 da inizio anno sta segnando il più 12 per cento ma contando il cambio con l'euro la cifra scende al 4 per cento solo negli ultimi tre giorni da quando sto registrando il dollaro ha perso il 2 per cento quindi anche attenzione a detenere liquidità in dollari è una scelta che io adesso non farei assolutamente ragazzi spero davvero che abbiate apprezzato fatemi sapere la vostra siete posizionati più o meno cash non ne avete assolutamente siete più cash addirittura di me scrivete tutto qua sotto nei commenti e ovviamente lasciate un bel mi piace se avete apprezzato l'ho già detto di mettere mi piace no forse lo ripeto mettete mi piace per questo video quindi è davvero tutto io vi saluto e alla prossima